72 persone sono state soccorse dalla Capitanere di Porto di Crotone a largo della costa calabrese. Si trovavano a bordo di un barcone alla deriva anche per via delle condizioni meteo con mare molto mosso. I 72 migranti, tra i quali 10 donne e 10 bambini, sono stati trasferiti sulla motovedetta della Guardia Costiera che si è diretta al Porto di Crotone, dove è avvenuto lo sbarco in sicurezza coordinato dalla Prefettura con la collaborazione dei medici del suo M118 e della Croce Rossa italiana. Una persona risultata ferita è stata portata in ospedale. Il gruppo, composto in gran parte di cittadini kurdi ed afghani, è partito dalle coste turche. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Caporizzuto, dove nell'ambito delle misure anti-covid saranno sottoposti a tampone e trascorreranno la quarantena prevista dalle procedure per contenere la diffusione del covid.